Ciao al mio canale, come stai oggi? Spero che tutto il bene venga da Teoroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio La Teniele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 dicembre 2020 tutte da leggere, e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, non credete all'oroscopo ma verificate. Punto esclamativo Chiuse vi volete punto aperte vi volete capricorno fiduciosi nel se stile Luna Venere Il cielo oggi non è gran che ma curiosamente, per vostra fortuna, la pioggia planetaria risparmia proprio voi, beneficiati dal trigono in gioco tra la Luna, e i vostri inquilini Giove, Saturno e Plutone che vi garantiscono una marcia in più. Principi solidi, perspicacia e quel tocco di fantasia indispensabile per non perdersi in un bicchiere d'acqua, i problemi li aggirate con soluzioni alternative, di una semplicità estrema, ma di grande efficacia. Una vocina nell'orecchio vi annuncia cambiamenti epocali riguardo a un'amicizia in procinto di diventare amore. Per lei? Affari fumosi online, la vostra aria da capuccetto rosso intriga l'interlocutore, convinto di potervi mettere nel sacco, invece nel sacco ci finirà lui. Per lui? Ogni tanto anche i maschietti sognano e a voi piace farlo con gli amici, progettando grandi viaggi, da effettuarsi, magari nel 2025, meglio stare larghi che restarci male, imprese di gruppo e soluzioni miracolose a problemi ambientali. Raccogliete le confidenze di un amico, che ha bisogno di una dritta. A strotarocco del giorno per capricorno regina di coppe rovesciata c'è molta disonestà e ambiguità intorno a voi due punti qualcuno vicino a voi appare ambiguo, disonesto, inaffidabile. Una donna poco sincera, un'amica infedele, una fiducia mal ripagata virgola donna poco leale e malfidata potrebbe mettervi in difficoltà. Persone poco sincere che vi circondano vi creano problemi e difficoltà. Attenzione alle nuove conoscenze. Molto bene il larvoro, la salute, gli investimenti finanziari. Ottimismo? Sarai saggio e prenderai le decisioni giuste. Intuito eccellente. Chi cerca trova due punti se di recente, avete smarrito qualcosa provate a cercare meglio. Oggi è il giorno buono per ritrovare oggetti perduti. Ma sarete altrettanto sbadati e rischiate di perdere qualcosa ancora. Buone speranze per i nati di lunedì di ottenere un lavoro molto cercate due punti gli altri dovranno invece pazientare e tentare altre strade. Non vi fidate troppo di una persona, che avete consociuto di recente due punti è inaffidabile, e vuole solo divertirsi alle vostre spalle. Provate a staccare la spina. In questa giornata alcuni aspetti planetari sono positivi ed altri negativi, dovrai fare attenzione alla tua impulsività. Per i single, è importante che non facciate mistero con le nuove conoscenze delle vostre storie passate che vi hanno dato qualche problema e qualche sofferenza. Meglio essere chiari prima piuttosto che esere fraintesi. Qualcuno dal passato torna a farsi vivo. Siate pronti ad accoglierlo con garbo ed educazione ricordando che sta solo a voi decidere, se dovrà tornare a far parte della vostra vita. Vi preoccupate troppo per persone che non lo meritano. Pensate di più a voi stessi. Gente egoista potrebbe crearvi dei disagi. Cercate di tenerli a distanza? State facendo dei piccoli errori che con il tempo, potrebbero danneggiarvi due punti. Cercate di porre rimedio e di intraprendere un percorso diverso. Unico corpo celeste negativo, Marte, dall'Ariete vi stimola ad agire. Vi preparate così alle imminenti feste prenatalizie. Nettuno vi consente di organizzare programmi familiari con fantasia, specie se siete nati dal sole e mercurio imbronciati in dodicesima casa, che rallentano la tabella di marcia. In cielo oggi solo astri positivi, a cominciare dalla luna intrigono al vostro segno, e in buona armonia anche con Urano, Venere e Nettuno. Amori fantasmatici con Giove e Plutone, che vi fanno sognare senza quagliare. Amore ed Eros. Se l'amore è lontano, un paio di sospiri, e qualche messaggino tenero abbreviano le distanze. La separazione non durerà a lungo, qualche giorno per andare a far visita alla vostra famiglia che abita lontano o concludere un viaggio di lavoro, e sarete di nuovo insieme, non resta che tenere duro e distrarsi con l'amico libro. Più facile per i single che non hanno nessuno da aspettare, in questo caso se l'amicizia diventa subito amore, meglio per tutti. Facilitati da occasioni insperate, che si creano fortunosamente, potete pensare a come programmare una fuga d'amore attraverso un piccolo viaggio. La persona che avete accanto vi asseconda, anzi è entusiasta di questa prospettiva, e voi seguite questo progetto con gioia. Nella carrellata delle accopiate trassegni, passiamo in rassegna l'unione tra il capricorno e l'ariete, tra la terra invernale e il fuoco estivo. Il rapporto si rivela essere spesso molto passionale, tanto da diventare di bruciante intensità. È spesso il capricorno, vero figlio di Saturno, a dare un'impostazione razionale alla coppia, e, se l'ariete è del tipo evoluto, lo accetta senza condizioni, apprezzando lo stile misurato, la capacità di mediare, e soprattutto l'intelligenza del partner. Non si devono innescare tuttavia meccanismi competitivi, che potrebbero minare il rapporto, non dimentichiamo che entrambi i segni sono governati dal pianeta Marte, dio della sfida. Lavoro e denaro. Ponte sgarruppato, ma pur appartenendo al segno più rigido e pessimista dello zodiaco, avete imparato a fare di necessità virtù, dunque niente viaggi, almeno sul piano fisico, ma tante online così approfondite che vi pare di viaggiare davvero. Sia al bricolace e all'artigianato, da sperimentare a casa vostra, o, se vivete in un borgo antico, da acquistare nelle bottegucce medioevali, rifiorite di recente. A tutti i cittadini lo sforzo di non farle appassire, lei commerce è comodo, ma la storia va salvata. Ottenete risultati di tutto rispetto se ancora oggi lavorate e vi potete dire soddisfatti di quel che avete fatto. Ottimi riscontri di tipo economico stanno per arrivare. Giove spiana i vostri passi. Benessere. In ottima forma, grazie anche agli amici coi quali, a prescindere dal meteo, vi allenate al parco la mattina. Certo, il ponte sarebbe stato l'ideale per una spa, o un soggiorno termale, vorrà dire che ve lo farete a casa vostra, con gli ottimi prodotti del mar morto, nell'acqua una manciata di sali, e l'altra di fantasia. Colore delle emozioni. Verde salvia. Barometro dell'umore. Soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti. 10, attività. 10, finanze. 8, benessere. 8. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo. 5 al 10 gennaio. 5 al 10 gennaio.